Ben trovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, programma ufficiale della 22esima giornata dedicata al Galoppo. Si corre sabato 22 maggio con la prima corsa che scatterà alle ore 15 e 5 e l'ultima corsa alla sesta alle 18 e 10. Abbiamo un Montepremi interessante legato al premio Tunisia, una bella condizionata che schiera sul doppio chilometro di pista sabbia cavalli di 3 anni e oltre ma corse di contorno ben confezionate. Apriamo con il premio Rabona, una reclamare sui 1200 metri di pista piccola dove sono 6 i cavalli al via. Difficile sempre il pronostico sui due anni, debuttano il numero 1 di Alka Chic & Love e Speri Tiger, il numero 6. Poi pochi riferimenti ancora per gli altri, ha fatto vedere qualcosa in più forse Orange Cake, Re Look che comunque ha corso bene fino agli ultimi metri della corsa effettuato. E ancora il numero 3 di Bright Fontaine. Ma tutto naturalmente resta aperto. Abbiamo sentito Foce fuoricampo, mister Brancato. Da me onestamente piace il numero 4 di Orange Cake, una cavalla che è quarta nella debuttante delle femmine, secondo me in questo contesto potrebbe dire la sua. Come seconda scelta voglio dare il numero 2 di Apollo Glam che ha debuttato con i maschi. Non è stato un bel debutto, però secondo me in questo contesto più semplice può sicuramente farsi notare. Come terza alternativa mi piace questa numero 3, Bright Fontaine della scuderia Alcatorre, che potrebbe sicuramente far bene in questo contesto. La seconda corsa invece è un premio Cipro legato ad un handicap di minima, una corsa alla portata di tutti e dieci partenti. Non c'è chi spicca sugli altri, si correrà sui 1200 metri di pista piccola con cavalli di tre anni e oltre. Apre non Alfonso che accorcia, poco hanno scritto sul curriculum Polain Dash, ma anche Belong You, che se si ricordasse chi è, Complimentor con una forma meno eclatante del periodo scorso, Leo Salsim, che dopo il rientro prova sicuramente a migliorare. Male ha fatto Balou che sta lavorando bene nei lavori mattutini. Song of Experience rientra, lui che ha fatto buone cose a Siracusa, anche se non era costante. Provano Siracusa perché c'è una novità, Ojeval, poco Sishan Ter e One Day Saddley. Ma sicuramente è una corsa che può riservare delle sorprese. Ne parliamo sempre con Mr. Abrancato che presenta 6 e 7 dello schieramento. Guarda, il numero 6 ancora sta bene, ma ancora ha fatto vedere poco qua a Siracusa. È un cavallo abituato a correre a pista dritta e sta avendo difficoltà ad abituarsi con la curva. Per quanto riguarda Song of Experience, è una cavalla che ha corso sempre bene su questi schemi di corsa. Non è molto carica al peso, 54, ben montata da Peppe Cannarella. Secondo me lei è più propensa per lottare per la vittoria. Da me piace questo numero 2, Opalindask, e poi vorrei dare il numero 4 di Complimentor che rientra, però anche se è un cavallo di 11 anni può ancora sicuramente dire la sua. Premio ricchezza, una vendere sui 1800 metri di pista sabbia, la terza corsa al Mediterraneo che scatterà alle 16.20 di sabato 22 mazzo. 9 i soggetti alla via, cavalli di 3 anni e oltre, dove spicca forse fra tutti il Sir Fortress. Sta facendo sicuramente e sta correndo bene anche in contesti superiori. Universo Sprite potrebbe far bene in questa compagnia. Notte d'amore estente a trovare condizione. Ha fatto bene su lunga distanza il numero 6 dello schieramento. Questa allieva di Antonio De Luca ha mostrato una bella seconda piazza, chissà se si ripete. Qualcosa ha mostrato anche Grand Scheng, anche se poi non si è ripetuto. Attenzione al numero 4 dello schieramento. A Siracusa, secondo su distanza, provata a ripetersi sulla sabbia dove all'esordio non ha fatto granché. Poi c'è una novità romana, Impedocle, e bene tranne l'ultima per Arab Gold, che risulta essere una valida alternativa. Poco ancora al Cabalantin. Abbiamo girato il microfono a Stefano Postiglione e il mister Schiera. Notte d'amore. Com'è questa distanza per il tuo Notte d'amore? Penso che sia idonea. La 12 ore ha rientrato il cavallo. Non ha tanto figurato. Oggi lo vedo più pronto. Ma i cavalli, ovviamente, interessanti, il Sir Fortress e l'Universo Sprite. Sono due cavalli che in questo contesto possono valere molto. Mi piace tantissimo anche il numero 6. Corso bene sul debutto della pista. La quarta competizione è il premio Somalia. È un handicap su 1200 metri di pista sabbia con cavalli di tre anni oltre. Dieci soggetti al via. Una corsa dove ci sono diverse linee da seguire. Proviamo a indicare Principes Rebbi e Gyps Princess, che hanno fatto bene nell'ultima competizione, rodati e regolari. Due corse ed è il primo all'ultima, secondo all'esordio qui su pista. Havana Silver ha destato buona impressione. Il resta un soggetto più che valido. Attenzione anche a MyFly, benché calante. Uncertain Distant, che è meglio su breve distanza e ritorna sui 1200 con speranza. In ripresa Secret Tour, stentato apostrofo Maggiè dei Sapori, con questo pesino potrebbe essere una sorpresa più che valida. L'ultima paga compagnia non si ripete dopo esordio la Guira e Walk This Way. Alla prima Siracusa ha fatto ancora vedere poco. Quindi sentiamo mister Stefano Postiglione, voce fuori campo. Principes Rebbi con i chili giusti può contare tantissimo. Avanasil per entrare... Il peso è pesante quindi. Sì, 63 chili, però secondo me in questo contesto è ben messo. È ben messo, è proprio una vittoria. Avanasil per entrare molto bene, darei vedere. Gyps Princess è anche lei vincitrice, secondo me è una cala che conta tantissimo. Ancestor Distance è il cavallo sempre là, Secret Tour interessante, corso bene anche l'ultima volta. Gli altri, tutte grosse sorprese. Premio Tunisia, la condizionata è la corsa più attesa della giornata. 11.000 euro di monte premi per cavalli di tre anni oltre, legata all'Ippica nazionale così come anche la sesta. Si va su questo doppio chilometro con ben 10 soggetti alla via. Apre Brandos Revenge, puntualissimo al palo a Siracusa a febbraio e a marzo, anche in contesti particolari. L'ultimo è dietro ad Orange Suite, che ha fatto bene a marzo, adesso questa linea rientra. E Special Rush, con l'ultima invece andato più maluccio. Andiamo ancora su un'altra linea, quella tracciata da Sensazione Poi, Alterno, ma se vuole è efficace. Ha messo dietro anche un domestic art che pare risvegliarsi. Poi c'è Guapo, pericolosissimo. Due terze piazze nel suo curriculum lo pongono comunque in forma. Non raccoglie da dicembre 2020 invece Perego. Spiritson e Start of Wells sono le due novità su cui porre i punti interrogativi. Una romana, l'altro estero, con buon curriculum. Poco dal 2021 invece in poi per Stick Around. Sentiamo sia Stefano Postiglione che Mr. Brancato. Perego, una bellissima condizionata. Questo doppio chilometro lo veste bene? Ma riproviamolo. Il cavallo dopo gennaio corse malissimo, lo riprovato, non sta tanto bene. Ora diciamo che rientra, infatti sono 13 mesi in cuore. Penso che è interessante anche questo cavallo Orange Street che ormai sappiamo che è patito per la sabbia. È un cavallo che vince estremamente facile sulla pista di sabbia per cercare di abbattere lui. Non sottovaluto questo Brando Revengers. Spesso una lancia a favore ancora di Guapo. Guarda, sicuramente sono diversi i cavalli che possono dire la sua. Secondo me i favoriti sono Orange Sweet e anche Domestic Art. Ma non si possono sottovalutare i due di Cuscheri, ovvero Brando Revengers che ha dimostrato che gradisce sia questo tracciato sia la distanza ed è molto chiacchierato anche il nuovo acquisto Spiritual Zone. Ovviamente oltre questi non possiamo non parlare anche di Special Rush che è un cavallo che in questa distanza e sulla sabbia ha fatto sempre abbastanza bene. Premio Albania per chiudere al Galoppo a Siracusa. Un handicap da 6.600 euro. Miglio in pista grande da affrontare con cavalli di tre anni oltre. Ipica nazionale legata a questa corsa. Aperta dal numero uno di Torquato. Una novità che prova ad adattarsi su pista. Quindi proviamo a schierare la linea di Trifty One in crescendo di forma che ha messo dietro Natural Storm che di nuovo ha recuperato a forma anche la perizia a suo vantaggio. E' Siciliano Bello che con 63,5 kg ed il miglio davanti può comunque far bene. Un Siciliano Bello che è regolarissimo e sempre al palo attende appunto di vincere. Dovrà impegnarsi Principio Azzurro. Altra linea che si propone in salita è Rusalca. Due vittorie consecutive. Ha messo dietro Eltabal che è risvegliato e Common Black. Quindi riprova Siracusa a give a break. Ancora rientro senza gloria nel 2021 per un letoianni che aveva fatto vedere qualcosa precedentemente ad inizio carriera. Poi ancora Beautiful Disaster che è discreto curriculum. Proviene sulle piazze di Roma e Napoli. Quindi il numero 12 di Calalù che non si ritrova. Sentiamo ancora Mr. Brancato impegnato con Principio Azzurro. Come sta Principio Azzurro? È carico 62? No, no. Secondo me ci può correre benissimo con questo peso. L'ultima volta abbiamo provato a correre in sabbia il 1.800. Però il cavallo ha corso bene. Però preferiamo tornare a correre sull'erba. La corsa è naturalmente alla sua portata. Secondo me i cavalli da battere sono il numero 6 di Rusalca che sta correndo abbastanza bene nel periodo. E poi mi piace anche il numero 2 di Siciliano Bello e il numero 3 di Trifty One che sono due cavalli in ottima forma che sicuramente possono lottare la corsa. Anche con questa perizia? Sì, anche con questa perizia. Quello leggero che potrebbe essere pericoloso è il numero 9 di El Tabal. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento con il Galoppo sabato 22 maggio in un ipodromo a porte aperte con il pubblico atteso in tribuna per rivivere di nuovo le emozioni del Galoppo dal vivo. Si parte alle ore 15.05 con la prima competizione del Premio Rabona. Arrivederci.